Abbiamo deciso di dire no uscendo dall'aula alla fiducia a questo governo semplicemente perché il governo Renziloni non è nient'altro che quanto di già visto, non è nient'altro che un governo che è il proseguio di quei mille giorni del signor Renzi, non è nient'altro che un governo che porterà avanti, a detta proprio del nuovo Presidente del Consiglio, tutti quelli che erano i progetti che si sono fermati dopo il 4 di dicembre, dopo che gli italiani hanno deciso in massa di dire no a una riforma costituzionale pasticciata, ma soprattutto di dire no a Renzi e la sua squadra di governo. Oggi noi ci troviamo con un governo fintamente nuovo, ci troviamo con un governo che continua a dire che i suoi predecessori, il governo Renzi, ha lavorato bene, continuano a dire che si dovrà andare in quella direzione, continuano a far capire alle aule parlamentari che loro vorranno rimanere in carica il più a lungo possibile. Noi diciamo no anche a questa cosa, diciamo no perché vogliamo andare al voto il più velocemente possibile, diciamo che la legge elettorale non la deve cambiare il governo, ma la può cambiare il Parlamento e la deve cambiare il Parlamento e di conseguenza in qualche giorno si potrebbe fare una legge elettorale nuova. Se loro sono il partito della Cadrega, se loro sono quelli del tiriamo a campare, se loro sono quelli del spartiamoci le poltroncine che sono rimaste nelle aziende di Stato, perché ad aprile ci saranno anche quelle nomine, noi non ci stiamo e non vogliamo essere impaludati in un governo che è il governo Renziloni che non avrà nulla di nuovo da dire.